La Banca Popolare di Sondrio al giro di Boa. Concluso il primo semestre, i vertici di Piazza Garibaldi trasmettono ai 168 mila soci e agli amici la consueta lettera di metà anno. Dopo la valutazione sugli scenari economici generali, Cina che rallenta, Stati Uniti a gonfie vele, Germania che frena, Italia in calo ma con elementi confortanti, come molti settori dell'economia reale in salute e la buona notizia delle Olimpiadi, la lettera, firmata congiuntamente dal presidente Francesco Venosta e dal consigliere delegato Mario Alberto Pedranzini, illustra poi la situazione aziendale. L'assemblea della Capogruppo il 27 aprile ha approvato a larghissima maggioranza il bilancio, chiuso con un utile netto d'esercizio di oltre 83 milioni, un dividendo unitario di 5 centesimi e un rendimento dell'1,9% sul valore del titolo. L'utile netto del gruppo supera i 110 milioni. Nel difficile contesto economico-finanziario che caratterizza l'anno in corso, afferma Novenosta e Pedranzini, la banca non si è adagiata ma, al contrario, ha svolto un'attività intensa e profittevole e così le controllate, continuando a concedere affidamenti mutui a famiglie e aziende meritevoli di credito e a investire in loco i risparmi raccolti nei territori presidiati. È proseguito il processo di derisking, col crescente e prioritario sforzo volto a ridurre il peso dei crediti deteriorati. Il grado di copertura, infatti, è superiore a quello del sistema, ma questo, prosegue la nota della Popolare, non ci esonera dall'impegno di migliorarlo ulteriormente, riducendo nello stock. Merita un accenno il salvataggio della Cossi Costruzioni di Sondri, a cui la Popolare ha riservato fattivo interessamento con la collaborazione di altri soggetti e il determinato apporto del gruppo Salini Impregilo S.P.A. Il buon esito dell'operazione, afferma la banca, ha tutelato le nostre ragioni di credito e ha evitato il fallimento di una storica impresa, scongiurando il licenziamento di quasi 200 lavoratori. Operare con prudenza, professionalità e impegno a favore dei territori, con la gente e per la gente, scrivono Pedranzini e Venosta, è la prassi da noi seguita da sempre, che tra l'altro ci ha permesso e ci permette il conseguimento di utili pure in situazioni congiunturali particolarmente sfidanti. Un impegno certificato anche dai prestigiosi riconoscimenti conferiti dal quotidiano economico-finanziario Milano Finanza. Siamo la banca di sempre, conclude la lettera, solida e profittevole, disponibile ad ascoltare chi ha bisogno del nostro supporto. Forti della nostra storia, siamo consapevoli che il futuro è strettamente connesso al passato. Guardarci indietro, per adeguarci al nuovo contesto, guardando avanti, è ciò che facciamo.